Grazie a tutti Allora, un applauso a questi bambini che sono arrivati a scuola Allora, un attimo che il preside vuole dirvi due cose No, no, io devo dire semplicemente grazie ai genitori, al dottor Rolaimo al comando della Polizia Municipale di Agrigento con in testa il comandante dottor Di Giovanni che è estremamente disponibile sempre alle nostre iniziative e all'amministrazione qui rappresentata dall'assessore Battaglia un'amministrazione che è sempre disponibile alle nostre esigenze alle nostre richieste stamattina sono tutti qua quindi grazie alla signora Draglia per tutte le mamme e credo che abbiamo fatto Adesso però vi fermate che vi faccio le interviste basta per i bambini per dare loro l'opportunità di orientarsi e capire, camminare a fede va bene perché c'è rispetto alle regole e rispetto alle persone quindi dobbiamo iniziare le lezioni quindi come tale chiudo subito grazie veramente applauso a bambini bravissimi adesso a scuola a studiare tutti interrogati vai